Ciao a tutti, è ora di installare l'interfono sul mio Shoei GT Air 3. Si tratta di un modello specifico per Shoei della Sena e qui vedete che è specifico per il Neotec 3 e per il GT Air 3. Adesso andiamolo a montare. Innanzitutto vediamo cosa c'è nella confezione. Quindi apriamo la scatola. Allora, ovviamente c'è tutto l'Ambaradan, mamma mia, viene già il panico con tutti questi cavi, cavetti ordinatissimi. Io adesso dovrò tirarli fuori e fare un pasticcio. Ah, in realtà pensavo peggio. Ecco, così si vede meglio. Qui dentro ci saranno le varie istruzioni. Pensavo peggio. Quindi c'è una centralina e poi ovviamente tutte le strutture che dovranno essere montate lateralmente. Vediamo cosa c'è qui dentro. Libretti, librettini, cavi, cavetti, microfonino, altro microfonino, spugnettine e nient'altro. Una piccola guida di riferimento rapido, semplice. Un'altra guida rapida sul Wi-Fi adapter. Non ho la più pallida idea di cosa sia. Adesso mettiamo al centro il nostro casco Shoei GT Air 3, di cui vi ho già parlato, ho già fatto un video apposito. Prendo in prestito un fantastico vecchio girocollo di mia figlia quando era piccola. Come procedere adesso? Innanzitutto dobbiamo rimuovere i guanciali e i cuscinetti interni. Ok. Il passaggio successivo è quello di rimuovere questa copertura. Vedete, questo è l'alloggiamento dell'auricolare destro. Adesso andiamo a sinistra. A sinistra c'è ancora la copertura, quindi togliamo la copertura. Qui c'è l'alloggiamento per l'auricolare sinistro. A questo punto dobbiamo rimuovere tre sportellini. Uno, due e tre. E possiamo aiutarci con questo fantastico strumento, molto professional, che ci viene fornito. Uno. Ci sono dei semplici denti a scatto che devono essere rimossi. Ok. Ok. Dentro c'è una spugnetta protettiva. Dobbiamo applicare tutto l'aggeggio nei vari scompartimenti. Cominciamo dalla centralina. I cavi per comodità per il momento li mettiamo dentro. Si incastra veramente in maniera molto semplice. Proseguiamo col montaggio. Gli auricolari li teniamo in giù. E dobbiamo posizionare questi due aggeggini, che sono le antenne, o perlomeno credo che siano le antenne. Il posizionamento è semplice perché deve essere effettuato in alloggiamenti che sono predisposti. Quindi non bisogna fare alcuno sforzo. Entrano in maniera perfetta. Anche da questo lato è possibile verificare che entrano senza alcuno sforzo. E dopodiché possiamo procedere con gli auricolari. Questo è l'auricolare di sinistra. Come vedete ci sono questi dentini che devono corrispondere, che devono essere incastrati in questi forellini. La procedura è obbligata, la posizione dell'auricolare è obbligata, quindi voilà il gioco è fatto. Semplice incastro. C'è anche la scanalatura per il cavetto. Questo è l'auricolare destro. All'auricolare destro dobbiamo connettere il microfono che poi andrà qui sotto. Il microfono per il GTA 3 è questo. Mentre questo con lo stelo rigido è per il Neo Tech. L'installazione è obbligata, nel senso che c'è un verso unico in cui è possibile effettuare questo collegamento. Fatto. Andiamo ad incastrare l'auricolare esattamente come abbiamo fatto a sinistra, facciamo a destra. Incastro. Perfetto. Devo immergere il cavetto in questa insenatura. Al microfonino penserò dopo, adesso lo lascio lì. Per montare i comandi laterali è semplicissimo, è tutto l'incastro. Adesso c'è questo spazietto, ma in realtà mi sembra incastrato tutto bene. Qui siamo sul lato sinistro e facciamo la stessa cosa. E anche in questo caso qui c'è questo spazio che non corrisponde in maniera soddisfacente. Ma in realtà tutto l'ambaradan, tutto l'aggeggio mi sembra incastrato bene e non ho nulla da ridire. Anche dall'interno si vede che i due elementi sono incastrati bene, solamente che non c'è una precisa corrispondenza. Così si vede bene. Cose che rimangono da fare. Rimontare i guanciali e posizionare il microfono anteriore. Io vorrei dapprima togliermi di mezzo la parte più antipatica, che è appunto quella del montaggio dei guanciali. Perché bisogna collocarli facendosi strada in mezzo ai cavi, cavetti e al nuovo ambaradan montato. Qua ho rimontato il guanciale sinistro. Devo essere sincero, è un'operazione molto fastidiosa perché bisogna far corrispondere tutte le guide in mezzo ai nuovi cavi e cavetti. Adesso provo a farvi vedere dall'altro lato. Il guanciale ha questo aggancio qui anteriore e questo qui posteriore. Per prima cosa, vedete, questo posteriore deve essere inserito e poi fatto scorrere. Semplice a dirsi, complicato a farsi. Ecco, così sono riuscito. A questo punto è accaduto qualcosa di bello. Mi sembra che si sia verificato. Mi sembra che si sia agganciato. A questo punto dobbiamo agganciare questo all'alto nortolino. Incredibile, ce l'ho fatta. Cominciamo ad attaccare i primi bottoni. Uno. Due. Ne manca uno. Questo devo farlo alla cieca. Tre. Per ultimo, mi sono lasciato la cosa più semplice e simpatica, che è l'applicazione del microfono anteriore. C'è un'apposita scanalatura per il cavetto. Un cavetto molto sottile, quindi bisogna fare attenzione. Per attaccare il microfono dobbiamo utilizzare questo velcrino adesivo. Lo mettiamo qui. Il microfono lo fissiamo sul velcro. Et voilà. Tutto pronto. Installazione terminata. È obiettivamente molto semplice. La parte più rognosetta è quella del reinserimento dei guanciali in mezzo ai cavi e cavetti. Però voglio dire, si fa. Adesso manca il collegamento e il setup con l'applicazione. L'applicazione è questa, si chiama Sena Motorcycle, è disponibile per tutte le piattaforme e prevede l'accoppiamento dell'interfono al telefono, al cellulare, tramite Bluetooth. Tramite l'applicazione è possibile gestire tutte le funzioni dell'interfono, a partire dall'intercom, quindi le modalità di comunicazione, la musica. È possibile gestire tutte le impostazioni audio del dispositivo. Ed è possibile effettuare anche l'aggiornamento del firmware. Adesso io non starò qui a dilungarmi molto sulle varie funzioni che ognuno potrà vedere da sé, ma è possibile regolare l'equalizzatore, gestire un controllo intelligente del volume in relazione, per esempio, ai rumori ambientali, quindi anche alla velocità. Come vedete c'è questa funzione di interfono HD che rende l'esperienza audio veramente ottima. Poi abbiamo la funzione di riduzione del rumore, la voce HD, la funzione Vox, tutte funzioni comuni a numerosi altri interfoni. E poi abbiamo la possibilità di utilizzare l'assistente vocale proprietario di Sena. Questa per me è stata una novità, non sapevo esistesse, ma è presente un assistente vocale proprietario proprio dell'interfono che consente di gestire varie funzioni, che so, alza il volume, abbassa il volume, se si ascolta la musica si può dire vai avanti, torna indietro. E devo dire che l'assistente di Sena funziona veramente bene. Poi ve ne parlerò più dettagliatamente durante il test ride. E infine abbiamo la sezione dedicata all'aggiornamento del firmware. Ci sono vari modi per aggiornare il firmware. Uno di queste modalità non è supportato per questo modello di interfono, cioè tramite il telefonino in wireless. Mentre si può aggiornare il firmware in maniera classica collegando l'interfono al pc con un cavo oppure tramite un aggeggio che fornisce direttamente la Sena. E ve lo faccio vedere. L'aggeggio di cui vi parlavo è questo. Ve lo faccio vedere mentre sto montando anche il video. Praticamente non è altro che un mini modem wifi, infatti si chiama wifi adapter. E come funziona? Praticamente questo mini modem si collega alla presa elettrica, mai azzeccarla a prima volta. Quindi è scritto specificamente nelle istruzioni mai utilizzare wifi adapter collegandolo al computer. Ma si deve collegare alla presa elettrica e l'altra estremità del cavo, USB Type-C, questo deve essere collegato al casco. Quindi il modem alla presa elettrica e con ovviamente un adattatore per cellulari, per intenderci. E l'altra estremità, l'USB Type-C, va collegata al casco. Per il primo collegamento tramite l'applicazione bisogna impostare le credenziali del wifi, quindi fondamentalmente la password del network wifi. Poi qui si accenderanno dei piccoli led. E come funziona? Che automaticamente questo piccolo modem scaricherà gli aggiornamenti del firmware al casco. L'avanzamento dell'aggiornamento lo si potrà vedere direttamente dall'applicazione, ma anche da un tipo particolare di lampeggiamento dei led. Qual è il vantaggio di questo sistema? Nelle istruzioni c'è scritto che questo cavo può essere utilizzato regolarmente per caricare l'interfono, quindi come cavo di ricarica. E mentre ricarica, però, se c'è un aggiornamento da scaricare sull'interfono, lo fa in maniera automatica. Ovviamente se siamo a casa collegati al wifi che è stato connesso per la prima volta. Quindi la connessione con il wifi va fatta una sola volta, le credenziali rimangono memorizzate, le password del network rimangono memorizzate, quindi ogni qualvolta si caricherà l'interfono con questo aggeggio da casa collegati al wifi di casa, automaticamente se c'è un aggiornamento del firmware, questo verrà scaricato e installato sull'interfono. Per il momento questo è tutto. Finisco di montare il video, questo che state vedendo. A questo punto mi manca solamente il test ride, sia del casco che dell'interfono, e vi preannuncio che le sorprese non mancheranno. Sorprese belle, sorprese positive. Alla prossima! Grazie! Grazie!